Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale tostana e in FIPILI. In FIPILI per lavori, possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, è chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno, e l'uscita di Tirrenia da Firenze. Il cantiere sulla FIPILI chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo sul crono programma. Restano validi percorsi alternativi sulla SP12 e sulla 11. Prima di salutarci segnaliamo che a causa del maltempo sono state cancellate varie corse di aliscafi e traghetti, da Piombino per l'isola d'Elba, tra cui l'aliscafo delle 16.05 per Cavo. Trovate tutte le informazioni sul nostro profilo Twitter. Muoversi Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!